ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video oggi porteremo con lo di warzone e poi arriva una mortalità soffa cominciamo subito sono davvero felice di vedere che il canale sta crescendo sedi benvenuti a chi sta vedendo per la prima volta il video benvenuti ragazzi io sono mister frank e porto contenuti sia di gameplay che di film sul canale potete vedere potete trovare alcune rubrica di testa trattando di voi con potete vedere anche lavoro qui adesso ci fiandiamo come se non ci fossero domani una partita dove cercheremo di ammazzare quante persone possibili ma ragazzi io vi chiedo gentilmente di lasciarmi un bel commento di la vostra magari di darmi anche qualche suggerimento sugli equipaggiamenti voi che cosa uscate di magari iscrivervi al canale e attivare la contendina per rimanere sempre aggiornati su noi i fantastici contenuti mi raccomando ragazzi non so che siete bravi lo fate sempre bravi bravi mi raccomando fatevi sentire forse nemiche in zona armi pronte forse nemiche in zona armi pronte non ci spostiamo attivare forse nemiche in zona armi pronte avanti la stiamo in vantaggio ma vabbè questi con le macchie scusa Oh, questo l'abbiamo beccato, capito? Eh, vabbè, dai! Ah, questo... Eh! Qua... Che staveva guidando adesso l'ho muerto. Si, però... Hai perso il comando, soldato! Oh, no, meglio. Dov' stanno? In posta? E' tutto in posta? Ma non c'è l'altro. E' scogliato questo. Allora, tu stai conoscendo... No, no, non c'è l'altro. No, c'è quello, ehi. Boom! Ehm, bello. Non è così. Stava bello tutto così. Proprio come la testa fuori. Ah, dai, vediamo. C'è la migliota buona? Quanto buona, l'altro giro. Ehi, va bene, dai, va bene, sì. Ma non c'è un'imperiore. Ehi, va bene! Ehi, va bene. Ehi, va bene in giro. Ehi, va bene, è un po' di studio. Grazie! Gเรlli! Ma non mi neancheandrò, ma non mi neanche... Ehi, non mi neanche, ma non mi le rai. Mi vogliamo! Facciamo! GRANATA PARTITA! chi ha? mamma mia mamma mia no ah questa era si fa tutto esplodere poi c'era anche la missione si fa esplodere persone quando c'erano sopra la missione muoricelo ah se no non ce l'hanno andato eeeh mannaccia quanto ben di dio da ammazzare quante persone da ammazzare peccato vabbè uno però stanno portando che stanno portando? eh uno si? ma quanto conti già come eeeh eeeh come anzi questa mannaccia vabbò ora quello non ha più oh dio oh almeno uno ce lo sta a portare di due perfetto questi qua che non caperà vabbè 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 per caso il nemico è a metà strada forza vabbè pazienza vabbè 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 il terreno vabbè 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 eccolo qua che faccia no il botto quella va a volare vabbè 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 cambio caricatore cambio caricatore vabbè ok eccolo 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 guardate che questo l'abbiamo fatto vabbè Non voglio essere riuscimmo a farne un altro. Ehm... Anche non c'è un po' più. Mi attaccano! Eh, ho spaccato un altro, eh. Eh, vabbè, sono morto. Sono morto? Sì, sicuramente. Siamo... Ostia, ma... Siamo... Siamo... Dai, dai, che siamo andato alla grandissima. Ehm... Eh, belli scudi, eh. Questo lato fa... Praticamente... A bomba. Proprio... A me ha proprio chiamato... E l'ho proprio lì pronto con un'idea, eh. Mi dispiace. Aia! Eh, però no. Troppo lontano. A me ci vuole... Al minimo tre anni, per esempio. Un altro. U Dio! Eh, vabbè, va. Bravo, bravo. Complimenti. Bravo. Bravo. Poi ci ritroviamo quando... Stai lì. Centato. Poi vediamo. Complimenti. Cambio caricatore. Contatto. Ricarico. Uh... Mamma mia. Quasi... Bravo. Ma... Ma... Stai l'occupamento... Stai lì... 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 Allora... Mh... Guardate... Non ho fatto... Eh? Forse... Ammazza lui... Perfetto... Perfetto... Stringete i denti! Non è finita! C'è... C'è lì... Stai lì... Stai lì... Stai lì... Ai poi... Non è lì... Molto... Molto... Grazie... Comunicato... Oh mannaccia sconfitta. Obiettivo fallito, potete rientrare. Stavolta raga, mannaccia. Però dai, abbiamo fatto un'ottima partita. 11 ulteriori. Devo dire che sono abbastanza soddisfatto. Perché avremmo perso, mannaccia. Ma vediamo cosa è che ci hanno sbloccato. Ottica. Aspettate, vado a vedere prima che cosa ci hanno sbloccato. Allora, che tipo di ottica? Ottica. Per scontro e distanza ridotta. Ehm, mannaccia la porta. Questo qua? No, vabbè, non tengo questo, dai. Ok, dai. Vediamo un po' cosa ci hanno sbloccato. Niente. Perfetto. Va bene, ragazzi. Allora, per questo video è tutto. Sto cercando di non fare dei video troppo lunghi. Ma se volete video di 30 minuti, fatemi sentire. Così magari, se volete video più lunghi, più corti, fatemi sapere voi. Ok, dai. Per questo video però è tutto. Ci vediamo nel prossimo esplettamento con il nostro Warzone. Un saluto a tutti dal vostro Mr. Frank. Un saluto a tutti.